ciao ragazzi auguri buon natale buon natale a tutti mamma mia state impazzendo dietro i fornelli davanti di e sotto sopra come vi stanno andando le ricettuzze panettone pandoro le capezzante afrodiserotiche ragazzi veramente voglio fare gli auguri a tutti quanti innanzitutto perché siete un pezzo della mia famiglia vi voglio veramente bene 340 mila superati iscritti sul canale principale più 130 140 mila anche sul canale quello in spagnolo in altri 8 9 mila sul canale vlog e poi ho aperto un nuovo canale che si chiama alfa e omega e non ho ancora caricato niente quando ho aperto sto canale ho detto ho un'idea però non mi è ancora arrivata bene quindi ho solo l'idea intanto youtube mi permette di aprirlo lo avrò e poi dopo vedrò no però ho un'idea nel senso che su questo canale qualcosa voglio fare non so cosa non so come però non c'è nessun video nessuno iscritto quindi io che qualcuno dice vabbè io aspetto la tua idea mi scrivo però sicuro non parlo di cucine la non lo so se sarà un canale che dedicherò ai viaggi sapete che io viaggio spesso e volentieri giro l'italia quindi al posto di intasare questo canale che poi teoricamente e dovrebbe essere dedicato solo alle ricette poi invece ogni tanto anche il blog e tino quindi come adesso ma però adesso è natale cioè se non vi faccio gli auguri di buon natale adesso e quando ve li faccio a parte il fatto che me ne sono arrivati tantissimi e sono contentissimo e poi volevo fare gli auguri di buon natale in modo particolare e quindi facciamo un brindisi a tutti quelli che lavorano perché saranno in tanti quelli che lavoreranno facciamo un brindisi anche a quelli che lavorano ma che lavorano in casa dietro i fornelli facciamo un brindisi ai miei colleghi che lavorano nei ristoranti facciamo un brindisi anche a me che comunque da domani devo andare a casa mia madre deve iniziare a cucinare l'inverosimile c'è proprio la qualunque astici capesante afro di 0 8 a farò i paccheri con la gara i spastici capaccheri astici insomma qualche cosa mi inventerò gamberoni e poi c'ho di tutto la oca o un'oca che mi hanno da regalità mamma mi è già venduto comprata buona loca però fatto una ricetta lo scorso anno alla loca contadina spettacolo mamma mia una piccola cosa vuoi far vedere un prodotto non so se lo conoscete questo sapete cos'è questo questo qui è il limone caviale praticamente quando lo spremi non è che ti esce il succo ma ti escono tipo delle palline piccoline che all'interno contengono il succo di limone e sembra caviale è qualcosa di meraviglioso fra l'altro volevo ringraziare e salutare anche giuseppe che me li ha mandate lui un bacio grande giuseppe giuseppe è quel ragazzo che fa l'olio che praticamente serve me e la mia famiglia per l'olio perché è un olio veramente di altissima qualità e oltre a all'olio adesso sta iniziando a commercializzare anche i fingerlemon caviale arance mandarini badabam badabam ma e altri prodotti calabresi tutta roba genuina non si può definire bio però diciamo che la possiamo definire comunque organica quindi naturale al 100% in quanto lui non utilizza niente io le utilizzo come avete visto no per fare il panettone pandoro la buccia quindi se avessi il dubbio che ci butta dentro qualche cosa a parte il fatto che vado la e ci spezzo un bracino ma poi no è un angelo quel ragazzo di è un angelo è onesto e pulito bravo è una persona meravigliosa e quindi gli ho detto fallo perché che dio ti benedica perché è una grande bella cosa anche perché permetti a quelli che sono a milano al posto di doversi comprare le arance che arrivano dal cile che con tutto il bene che voglia i cilini io vi amo cile o dalla spagna con tutto l'amore per la spagna però se mi permetti quelle della sicilia o quelle della calabria di arance preferisco no anche vabbè lasciamo perdere non andremo in certi discorsi comunque tanto avete capito benissimo quello che voglio dire no e poi niente e ragazzi allora vi dico già una un anteprima per l'anno prossimo che farò un nuovo video del panettone il panettone barbato 2019 quindi io ho già iniziato a provare adesso ho utilizzato questa farina tecnica molto buona io ho utilizzato quella del morino della giovanna ma non è l'unica ok c'è un'altra caputo ce ne sono altre però devono essere farine tecniche specifiche con quelle indicazioni che vi ho dato e vi permettono di fare qualche cosa di meraviglioso io ho fatto la ricetta classica ho detto magari non trovano vogliono farselo lo stesso ok viene magari un pochino più durino meno morbido meno spumoso meno però viene comunque sicuramente buono utilizzando non una farina specifica tecnica quindi vi ho dato una dose di latte di 150 barra 180 la cosa buffa è che io con questa farina qua ho visto che teneva 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 nella lavorazione ho detto va boia sapete che faccio esagero ho esagerato e ho fatto un test a 350 di latte cioè nella prima per sciogliere il lievito non vi dico la qualità del prodotto che è venuta fuori mamma mia delle bolle ma una morbidaggine a proposito una cosa importante perché poi mi rendo conto che a tanti non è cresciuta nella seconda lievitazione lo sapete perché allora questo però diciamo che forse dovrei parlarne meglio in un video tecnico però è un'indicazione che io non vi ho dato ma è importante perché se non succede questa cosa che adesso vi spiego poi non crescerà durante la seconda lievitazione allora quando fate il primo impasto lo dovete far quasi nacidire cioè nel senso che quando tirate via la pellicola o lo straccettino lo dovete annusare se sentite che ha sviluppato un po di un po di aceto cioè che ha questo odore un po acetoso allora è pronto per il secondo impasto perché la lievitazione con il lievito madre è 50 per cento tramite i fermenti lattici e il restante 50 per cento è una lievitazione alcolica ok acetosa se non c'è un giusto bilanciamento di questi due tipi di lieviti automaticamente che succede che quando fate poi il secondo impasto non lievita quindi fra il primo e il secondo impasto se sta anche tre ore in più non è un problema la cosa importante è che non deve stare tre ore in meno ok ovviamente sto parlando del lievito madre perché con il lievito di birra invece vi dovete dare la mossa perché se no se se poi lo fate in acidire ma dato che il lievito di birra così come lo comprate non ha la forza e la continuità del lievito madre quindi poi in quel caso invece i tempi vanno rispettati quindi va rispettato più che altro discorso del volume non vi preoccupate tanto del profumo domanda che nasce spontanea poi comunque ne riparleremo il prossimo anno o magari sotto pasqua vediamo adesso ma se poi mi va a creare questa con fermentazione alcolica c'ha questo odore così poi quando lo vado a cucinare mi puzza che no assolutamente durante la cottura sparisce tutto ok e diventa perfetto oltre ad essere molto più digeribile è importante questa cosa mi raccomando è importante va bene dai ragazzi allora ci tenevo a fare di questo piccolo video per ringraziare perché veramente siete in tantissimi vi lovo assai vi bacio tutti ci vediamo nei prossimi giorni quindi dopo santo me che andrò a caricare una ricettina qualcosa di spettacolare per capodanno e poi dopo si riparte con il 2019 dove ho tante belle idee ho intenzione di creare anche un'app per il cellulare vi chiedo voi consiglio pensate che ne possa valere la pena anche perché in tanti trovano difficile magari riuscire a seguirmi sul sito internet perché ci sono i cucchi perché di qua perché di là quando invece hai una app entri bam vedi e accetti una volta poi dopo non devi accettare più invece per queste nuove situazioni qua c'è bisogno di accetta perché se non accetti non puoi vedere e perché se non puoi vedere poi dopo non hai guardato insomma va bene va bene avete capito ok e se non avete capito scrivetemi qua sotto che nei prossimi giorni perché adesso anche io mi vado a fare una bella doccia perché sono stanco morto però sono molto contento domani mattina si comincia e buon natale lo chiedo molto alla prossima